Una medaglia celebrativa, eventi, premiazioni, ospiti illustri e infine un concerto lirico al San Carlo. Si chiudono così i festeggiamenti per gli 800 anni dell'Università Federico II, il più antico ateneo statale e laico, nato per volontà dell'imperatore con un editto datato 5 giugno 1224. Le celebrazioni inizieranno il 3 giugno con la giornata dello studente, una manifestazione nata con lo scopo di raccontare le storie extra aula degli studenti con le loro passioni e gli obiettivi. Incontreranno il regista e attore napoletano Vincenzo Salemme. Si prosegue il 4 con l'incontro della comunità federiciana con la cantante Malika Ian, che terrà poi un concerto alle 21 in Piazza del Gesù. Gran finale per il 5 giugno al Teatro Massimo Partenopeo, con una serata in cui Alberto Angela regalerà al pubblico in sala il racconto degli otto secoli dell'ateneo. In questa occasione saranno premiati anche i laureati illustri, fra cui Roberto Saviano, Viola Arnone e Claudio Palumma. A Sipario Chiuso il 7 giugno alle 21 si terrà una manifestazione teatrale, Federico secondo noi, realizzato dagli studenti del laboratorio teatrale dell'università. Soddisfatto il rettore Matteo Eurito che ricorda la data storica del 5 giugno. Il giorno in cui venne proclamato quel famoso editto, che è diventato il capostipite di tutte le università statali nel mondo occidentale. Pensate a quante università statali ci sono nel mondo occidentale, se facessero tutto l'albero genealogico arriverebbero tutti quanti a quell'editto, a Napoli, alla Federico secondo. E conclude con un pizzico di emozione. 800 anni sono 8 secoli. Se provate a immaginare 8 secoli sono tantissimi, sono veramente tantissimi, sono 30 generazioni. Abbiamo formato 30 generazioni di studenti. Se provate a fare un calcolo sono centinaia di migliaia di studenti, sono formati da noi e, tra questi anche tre presidenti della Repubblica, non ce lo dimentichiamo, la nostra Costituzione originale ha la firma di un federiciano. Quindi, voglio dire, abbiamo, credo che Federico secondo, il contributo di Federico secondo al Paese, anche nel periodo recente, sia assolutamente indiscutibile. Grazie.